Noi abbiamo circa la metà dei nostri servizi che sono servizi di tipo educativo, legati comunque alle scuole o ai calendari scolastici. Il fatto che buona parte delle scuole abbiano mantenuto comunque l'apertura ha permesso anche a noi di garantire la continuità del lavoro a buona parte dei nostri soci. I servizi che oggi subiscono di più e hanno subito di più in quest'inverno la seconda ondata sono i servizi per anziani, come molti sanno, quindi quelli in particolare di strutture che ospitano anziani con diversi gradi di autonomia o di malattia che come è noto sono stati interessati dalla seconda ondata di contagi e quindi anche da alcuni decessi, comunque dalla difficoltà a fare nuovi ingressi e anche molti operatori nostri in queste strutture si sono ammalati, come molti erano stati nella prima ondata e questo chiaramente oggi ci mette in difficoltà da quel punto di vista e ci impedisce anche di fare una vera e propria pianificazione per i prossimi mesi. Mesi in cui la struttura di Santa Colomba, la residenza per anziani è stata pesantemente colpita da questo Covid-19, voi siete tra i soggetti consorziati nell'erogazione dei servizi, è passato il peggio in questa struttura, possiamo guardare con più ottimismo? Sì, in realtà qualche nuovo ingresso è già avvenuto in questi giorni, in effetti oggi siamo in un momento in cui anche la seconda ondata dentro le strutture di Santa Colomba sembra avvolgere il termine, diciamo che non ci esponiamo, non ci sbilanciamo magari anche solo dal punto di vista scaramantico perché anche dopo la prima speravamo di riuscire indenni da nuovi problemi, invece così non è stato. In questo momento sia nel personale che nell'utenza, negli ospiti, ormai i casi positivi sono ridotti a pochissime unità e tra l'altro la struttura permette, come è previsto da procedure, anche il totale isolamento di queste persone per cui tutte le altre stanno in una situazione di totale sicurezza, certo fatto sempre salvo il rischio che qualcuno da fuori tendenzialmente possa portare il virus, però la tendenza nazionale anche nella nostra città è comunque verso il miglioramento per cui noi stiamo puntando chiaramente nel giro di poco sul riprendere gli ingressi e riportare la struttura verso il riempimento che era la sua condizione naturale quando un anno fa era piena e c'era una lunga lista d'attesa perché comunque si tratta di una struttura molto apprezzata dalla cittadinanza. Grazie a tutti.